Si è notato delle differenze quali tra Brescia l'anno scorso al di là del livello del campionato e Cantù, perché comunque sono due città, Brescia sicuramente più grande, però non è Milano, non sono cittadine enormi, quindi se ha trovato delle differenze o delle similitudini. L'anno scorso erano in Brescia, qual è la differenza tra Brescia e Cantù, perché le città non sono così simili, ma non è Milano o Roma, sono piccole città, quindi qual è la tua impressione di questo? Oh, well, Brescia è più grande in Cantù. Yeah, yeah, of course. But for the most part, you know, here, of course, they're becoming more passionate about basketball there. After the season we had, you know, they're gaining it back, but for sure here, you know, in Cantù, you can tell it's traditional, you know, the atmosphere and the fans here. and as far as the city, you know, of course, there's probably more things maybe to do because it's a bigger city, but I like it. I'm from small cities in America, so, you know, I'm used to being, you know, having to drive to the bigger city, you know, so I like it, you know, it's nice here. Come, come immaginavo la risposta, tutti dicono giustamente Cantù, ci si trova bene, giustamente ha precisato Brescia, è più grande di Cantù, però la passione, l'atmosfera, Cantù è una città che vive di basket, ha la tradizione nel sangue del basket, è una cosa che si sente tantissimo. poi ha aggiunto che comunque lui viene da una città piccola, quindi si trova, si trova bene, non ha assolutamente problemi a trovare quello di cui ha bisogno, non è abituato a guidare per molto, non è abituato a guidare tanto, quindi si trova bene qui, qui a Cantù, è la cosa personalmente, chiaramente mi fa piacere. And what about the Italian? Me, speak Italian? Yeah. You, you, not the Italian who speaks me, no? We say this thing to everyone from the United States coming here, because Mino is the worst Italian teacher you can have. No, Mino, I can understand, you know, some things, you know, more and more I start to, you know, get a feel for, you know, I hear it and be like, oh, I know what that means, you know, because after a couple words or whatever, but speaking, no, it's not so easy. Yeah, it's not, I can't do that, I don't even want to try sometimes, because, you know, it's no point and then, but yeah, I like the language, I just, I wish I had more time to try to learn, but with practices and everything, by the time it's nighttime and I'm home, I'm ready to relax and, you know, either sleep or watch TV, so, my mind isn't ready to learn. As well. Partendo dalla fine, la sua mente non è pronta per imparare qualcosa capisce, ma non ha molto tempo per permettersi a studiare, ok, ma diciamo non preoccuparsi perché Martino è sei anni che qui e sta a dire due parole. Don't worry, because Martin is five years here. I've still got three years. He can say it's just two or three words.